Bella a tutti ragazzi, sono Enimista Forever e benvenuti in questo nuovo video di Black Ops 2 ragazzi Una serie che sto iniziando in questo momento, una serie Parliamo di partite a Black Ops 2, così a caso, a random Questo gioco l'ho comprato due settimane fa, quindi diciamo che sono un po' un abbetto E basta, niente altro da dire, anzi si, ho da dire tantissime cose Allora ragazzi, vedete queste? Sono le nuove cuffie che ho comprato E ho fatto vedere nel live, però non l'avevo fatta sentire Perché ci sono stati problemi tecnici per aprire la scatola Quindi, lasciate perdere E questa qui sarebbe la nuova webcam che ho comprato Quindi mi vedrete qui, molto molto meglio dell'altra ovviamente E poi, basta, sentirete molto meglio Ah si, i capelli un po' spettinati ragazzi, non fateci caso Però comunque, iniziamo una partita a caso ragazzi Sono a livello 51 da due settimane, quindi basta Non ho nient'altro da dire Ah si, ho scoperto ragazzi, che si possono fare le dirette streaming con Call of Duty, Black Ops 2 E quindi possono fare direttamente su YouTube o Twitch Quindi se state magari andremo in diretta, in live Allora, quindi troviamo una partita molto molto velocemente Ah si, prima di iniziare vi dico che uso la classe questa Con HMR e Mirino Dual Band e Fuoco Rapido E poi, no, questa qui di solito non uso questo Ma uso Questa Ecco, questa qua, Scorpio Neo Con, vabbè, qualcosa come questo Non ci faccio caso Poi qui ci metto anti-skate, giacallo Qui volevo mettere maschera tattica Però purtroppo non ho più spazio Perché ho usato questa Poi Bonsimbetti, scossa elettrica Questa Allora, ci metto Ok E vabbè ragazzi, di solito uso questa Poi vabbè, posso usare anche questa O questa Poi O questa Il cecchino, veramente, io faccio cagare Il cecchino, mi devo ancora allenare un casino E quindi, trovo una partita Veloce, veloce Facciamo una partita Postazione Anzi, sì No Deathmatch, vai Speriamo che non sia già iniziata Se no me la piedi in quel posto Eye jacket Buono Allora ragazzi Allora, allora, allora Allora, vi ringrazio per questi 200 iscritti Siamo arrivati a 236 iscritti E 153.000 visualizzazioni Quindi ragazzi, un traguardo veramente ottimo Spero di andare avanti ancora Andare avanti il mio percorso Ah sì ragazzi, poi inizierà la nuova serie di Happy Wheels Quindi non perdetevi la Non perdetevi i episodici che usciranno Allora, intanto Vabbè, facciamo qui sto Eye jacket Dai, su, caricati Ecco qua Allora, dovrebbe lag Ecco, infatti lagga un pochino Ragazzi, è l'inizio Quindi Fanculo Aspettate che Vedete che lagga un pochino all'inizio Why this lag Ok Oh, finalmente Non lagga di meno Allora WTF Ah ecco Mica che lag di santo Fuck di shit Oh assist, ok Ehm, mette una cosa qua Yes Bitches Ma vaffanculo a te che camperi Ma guarda quello Allora Guarda pigliarlo adesso Mi sono infuriato Ehm, quindi Ciao a tutti Ehm, metto una cosa Un lag lì Vedi qua Oh, pop, pop Ok, porca Oh, porca Succhiavelo Ah, camper di merda Ehm, ok Quindi Ciao a tutti Allora Porca troia Allora, aspettate Ok Ok Quindi How's it going guys My name is Piddy Ehm, no Oh, porca Oh, vacci piano, eh Madonna Ok Ehm, incominciamo molto molto male Perché stiamo facendo 1-2 Veramente da schifush Succh my dick, bitches No, 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 no Che cazzo so Ok Ok, respiriamo Molto bene Molto bene Molto bene Uovi nemico Sopra di noi Uovi nemico Hop Cazzo 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 Fa un culo Ah Putta Oddio Ok Ok Guys Ok Guys Bene 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 Oh cazzo Devo lanciare quello a fare Oddio Oddio santo Ho molta paura Ah, scone Ehm, qui Quindi andiamo un po' qua Oddio cos'è quella cosa? Sulla minima appa dicevo Ah, sacco my dick Bitches Ok Vai, 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 vai Allora Stiamo recuperando le kill Comunque ragazzi Stiamo facendo 4-2 Quindi mi sembra un'ottima cosa Ma siamo solo all'inizio Quindi mi farò uccidere molte volte Moltissime Diciamo Allora, arriva da dietro adesso Quindi Fanculo Devo grattare il naso Attenzione Momento critico Oh merda Ehm Ah, che bello Ehm Ah, faffanculo Suka Prendimi la bolsa In bettini al culo Ok Ehm Ci stavano Aspettate Adesso faccio così Ehm C'è nessuno Ok, possiamo proseguire Attenzione ragazzi Se ne va lui sulla fascia Tan, 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 tan Orco Can, ok C'è un altro Si è spawnato un altro Fanculo Un altro Ma va fanculo Fammi uccidere uno Dio santo Eh Guys Qui si dovrebbero spawnare Quelli Avversari Si spawnavano Quegli avversari Quindi mettono Fanculo qua Ok Uh, nemici sono tutti D'altra parte Molto bene Yes Bicis Ho fatto una cazzata Ok, no vabbè Allora Possiamo anche Puff Ok Oddio ho visto un RPG Qualcosa No Ho visto un missile Partire a razzo Op op E sono tutti i nemici Ah Devo caricare Devo caricare Posizioni Suck my dick Bicis Oh Abbiamo vinto Si ho fatto Se tre Bene 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 Ottimo Ottimo Si però Vedendo che quelli fanno 26 6 Diciamo che Ok Ok Ragazzi Ok Molto 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 Bene Quindi Facciamo una cosa Io direi che È stata una partita Ottima Quindi ragazzi Quindi ragazzi Se vi è piaciuto questo video Mettete mi piace Commentate E iscrivetevi Soprattutto al mio canale Questo qua Se non me lo avete ancora fatto Iscrivetevi E poi iscrivetevi A tutti i link Che sono qua sotto In descrizione Quindi tutti i canali Il mio secondo canale Il canale dei live I canali dei miei amici Tipo JustRux Deschietto E bla 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 E quindi ragazzi Da Enniso Forever Tutto Ciao a tutti Ciao a tutti